Già nel maggio del 2014 abbiamo denunciato la situazione che si stava prefigurando, ovvero i grandi appetiti e le grandi mire di Mediaset sulle antenne pubbliche della RAI. Dopo qualche giorno che denuncio tutta questa situazione molto scura che magari si racchiudeva all'interno del patto del Nazareno, a porta a porta Silvio Berlusconi mi chiama buffone. Le leggo un'ansa, per il Presidente della Commissione di Vigilanza sulla RAI, Roberto Fico, Movimento 5 Stelle, Virgolette, Renzi e Berlusconi nel famoso incontro del Nazareno hanno siglato un accordo segreto sulla svendita di RAI Way al gruppo Mediaset. Non è nulla di vero, assolutamente vero, da domani mattina i nostri legali faranno querela contro questo buffone. E il giorno dopo dice che mi sarebbe arrivata una querela. Sono passati esattamente nove mesi, la querela non è mai arrivata, ma è arrivata invece l'offerta pubblica di acquisto di Tower, sulla società di Mediaset, sulle antenne pubbliche della RAI, di RAI Way. Con Renzi abbiamo trovato una assolutamente, assolutamente. Berlusconi, chi è il buffone?